Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Ricetta del cuore Insalata di mais 200 g di mais in chicchi Sale Un peperone rosso Un peperone verde Una cipolla Aceto di mele Peperoncino rosso in polvere Olio extravergine d'oliva Alcuni rametti di prezzemolo Lavate Lasciate in ammollo E quindi cuocete i chicchi Come suggerito dalla ricetta base Poi lasciatele raffreddare Quando sono ormai freddi Passate alla pulizia dei peperoni Privatele del torso all'interno A dei semi E tagliatele a dadini Pulite anche la cipolla E tagliate anch'essa a dadini Mescolate le verdure Con alcuni cucchiai di aceto di mele Del peperoncino in polvere Dell'olio E un po' di sale Versate il tutto sul mais E lasciate infine riposare Per una mezz'oretta Al fresco Prima di servire Solo a questo punto Aggiungerete del prezzemolo tritato Grazie a tutti Grazie a tutti